Bella a tutti ragazzi, io vi faccio il nuovo video del vostro maternale azzurro, oggi pagelle, dello scempio che abbiamo visto ieri in Nintendo Juventus Vi saluto ragazzi un bel like, un bel like al canale che è arrivato ai 300 iscritti, quindi iscrivetevi in tanti perché sarebbe molto molto piacere In questo momento siamo a 257, quindi vi ringrazio di cuore per il supporto e condividete il video ovunque Ragazzi l'idea è di partire subito, partiamo ragazzi da Onana, voto 6 e mezzo Perché? Perché comunque ragazzi l'uscita è sempre perfetto, poi alla fine salva un gol incredibile mettendoci sul cross di costis, la punta delle dita Per non farci arrivare Locatelli che avrebbe spedito in gol la rete del 2 a 0 Sul gol ragazzi qualche responsabilità ce l'ha perché nel posizionamento non è che sia messo benissimo, troppo a destra Però non vede ragazzi per dire il pallone perché Damian e Dumfries gli sono davanti quindi ragazzi Poteva farci ben poco, 6 e mezzo alla fine come se lo merita Damian voto 5 e mezzo, perché? Perché ragazzi ha fatto una partita molto molto pulita e molto attenta Però sul gol ragazzi sono di lui e Dumfries delle responsabilità enormi Perché non escono nessuno su costis che è libero di tirare praticamente a botta sicura Senza neanche l'istruzione di nessuno Però ragazzi non posso dargli di meno perché ha salvato un gol incredibile su Vlaovic che aveva tirato a botta sicura a porta vuota Tante chiusure in scivolata, chiusure in preventiva, grande partita per il trattetto di destra difensivo 5 e mezzo però ragazzi per il gol subito alla fine Molto della colpa sono sue De Frai voto 6 e mezzo perché ha fatto una grande partita questa sera Non è che De Vrij ha giocato mai, De Vrij ha giocato mai De Vrij ha annullato completamente Vlaovic Ha vinto qualunque duello contro il Serbo Quindi ragazzi c'è poco da dire, abbiamo dovuto dargli anche 7 di voto 6 e mezzo Perché comunque 7 è un po' già gelato per una sconfitta così Però ragazzi l'ha completamente annullato, grande partita di Stefan De Frai Che ha fatto una partita di ottimo livello 6 e mezzo A Cervi anche lui voto 6 e mezzo Perché comunque Inzaghi non può mettere a impostare uno come Cervi Però ragazzi ha fatto bene Molte volte andava anche su Teneva il pallone Provava dei fraseggi Quindi ha giocato anche abbastanza bene a Cervi Nonostante non fosse il suo ruolo E mi è piaciuto Attento in fase difensiva Molto equilibrato Quindi 6 e mezzo alla fine glielo do Dove ho preso 8 e 4 Continua No ragazzi non deve più giocare Piuttosto metti D'Ambrosio Esterno destro Ma ragazzi non salta mai l'uomo Come voglio dire se l'ha fatto più Sortito fa insieme per la nuova Una che dovevo finire 0 In 80 minuti Assurdo Non è andata una volta sul fondo Non ce la fa Non ce la fa È un coglione Non c'ha voglia Che imbecille di giocatore Mamma Ma buttatelo via Nell'immondizia Questo che altro che salta più Questo tirano 10 lire A sti imbecille di olandesi di merda 4 di voi Torna sempre costantemente indietro Ma come cazzo è possibile Un Brocco Un Somaro 4 Barella a voto 6 Perché comunque Mi potrebbero dire molti che ha sbagliato tanto Non ha sbagliato molto in questa partita Ci poco da dire Un po' troppo nervoso come sempre Come l'ammunizione che ha preso Come sempre Ultimamente Non è che sia In grande condizione fisica Però alla fine non sai sicuramente se lo metto Perché è l'unico che ha provato a gestire L'immelso di clambo Con Ciananoglu I palloni che sono arrivati comunque dalla difesa E che bisognava gestire Con Sufferenza se la merita Brocco 25 Va rallentatore ragazzi Come ho detto in sera Va a 0.25 di risoluzione Non riesce più A dare Brio alla manovra A velocità È sempre molto lento Machinoso Mi sembra diventato Un giocatore Irriconoscibile Dalla vostra stagione Dove era Un perro totale Questa non è neanche più titolare Ha giocato Perché il bichetariane doveva riposare Se no ragazzi Noi non è più titolare dell'Inter Ovviamente questa cosa Mi fa veramente Cioè dare di matto Perché nell'ultime 2-3 stagioni Nell'ultime 3-4 stagioni Era sempre il perro titolare Il giocatore più importante Dalla rosa Ha aiutato ad essere uno dei tanti Addirittura in panchina 5 partita Veramente Imbarazzanti Cioè Anoglu C'è in mezzo È l'unico ragazzi Che con le punizioni Prova a dare uno spunto Con delle giocate sue Con dei tiri da fuori aria Con la sua qualità Ma ragazzi non ce la fa Però un 6 e mezzo Se lo merita Perché è sempre l'unico Che nelle sconfitte Nelle vittorie È sempre migliore in campo Praticamente Bravissimo 6 e mezzo Di Marco voto 5 Questa sera ragazzi Imbarazzanti Imbarazzanti ha fatto male Imbarazzanti ha sofferto Imbarazzanti dei scigli Come cazzo fa Imbarazzanti dei scigli Si vedeva che era in condizione Ha giocato 60 minuti Ma era già stanco Perché non era comunque Veniva dall'infortunio Non molto grave Però comunque Veniva dall'infortunio E si vedeva Che non era in grandi condizioni fisiche 5 perché alla fine Non ha fatto nulla In difesa la Lega ha fatto chissà cosa Non ha spinto per niente 5 ragazzi Lautaro voto 4 e mezzo Non ha toccato mezzo pallone Gatti Veramente L'ha completamente annullato Come De Frai con Vlaovic Però Non ha toccato una palla L'Altaro Martínez Che sia una Che sia una L'unico pallone che ha toccato Le ha sbagliate tutte Valissimo Lautaro 4 e mezzo Una delle peggiori percezioni di quest'anno Sono una peggiore Lukaku voto 5 Non ha fatto Necessariamente meglio di Lautaro A me si è fatto più Vedere nel vivo del gioco Anche se È abbastanza In maniera limitata Però almeno ci ha provato A proteggere il palla Con il suo fisico A gestire i palloni A manovrare A fare un pochino di manovra Ma ha sbagliato anche lui tutto Quindi 5 per lui D'Ambrosio voto 6 Perché? Perché comunque entra Fa qualche buon cross Qualche buona Giocata offensiva Neanche nel suo ruolo Come esterno sinistro Tutta faccia Cazzo gli vuoi chiedere 6 Mkhitaryan voto 6 e mezzo È entrato colpito giusto Due tiri da fuori alla Molto molto interessante Soprattutto quello col sinistro L'altro Non proprio interessante Perché è fitto in curva Però Ha provato a gestire un po' Palla La manovra Secondo me Non ha fatto male 6 e mezzo È entrato Anzi colpito giusto E sta dimostrando Che deve giocare lui Al posto di Brozovic Però ovviamente Raffaele 6 e mezzo 4 e mezzo 4 e mezzo Scura 4 e mezzo Non si è mai Ha sbagliato tutto 4 e mezzo Ho letto male Perché? Perché ragazzi Che cazzo è? Cioè Tutte le partite Non fai un tiro Non ha fatto un tiro La tua squadra Non ha fatto un tiro Che sia uno Pericoloso Un tiro di Barreno Dopo 20 minuti Basta Basta Di pericoloso Verso la porta Proprio pericoloso Gli hai dati in bocca Veramente Dzeko Lukaku E Lautaro Non possono stare Tutti tra i cibi Devi levare per forza Lukaku Dov'anni Non lo devi far fare mai Non è stato Lautaro Abbiamo fatto una partita Indecorosa Cava Lautaro No? Lukaku ha fatto leggermente meglio Cava anche il cazzo di Lautaro Che ci aveva fatto pena No Per forza Lukaku Dzeko lo metti all'ottantesimo Ma ciao Ma è finita la partita Vaffa a culo Allega Di voto 7 e mezzo Non ho scoperto Di cambiato Per gli slaghi Non ti voglio dire Allega Gli ho dato sotto e mezzo Perché comunque Ha gestito la partita In maniera abbastanza Dopo il gol Cioè abbastanza Insicurezza Non ha rischiato nulla Anzi Ha rischiato più volte Di fare il 2 a 0 7 e mezzo Migliore dell'evento Per me Costi Ci ha guidato un 8 Partita clamorosa Uno dei giocatori Più sottovalutati Nella serie A Come i ragazzi Vi ho detto Da un bel po' di tempo E' uno dei miei Serri preferiti In generale Da quando era l'Eintra Che avevo visto Giocare intract inter Ragazzi l'ho seguito Giocatore Fantasmagorico Che ragazzi Ne ha giocato tutto Il titolare Quest'anno con la Juve 25 su 27 E due da subentrato Va Torna Va Torna Al novantesimo Cosa se ne aveva più Di Dumfries Che ragazzi L'ha uccellato Questa sera Dumfries L'ha uccellato Gli ha fatto fare Quel cazzo Gli ha fatto fare La manionetta Un burattino A Dumfries Ragazzi Clamoroso Così Giocatore Fantasmagorico Continuo a dirlo A dirlo Giocatore più importante Nella Juventus Spogo da dire 8 Peggiore ragazzi Il Vau E 5 Ultimamente Nell'ultimo due mesi È imbarazzante Non tocca mezza palla Contro De Fry Che negli ultimi due anni È veramente un brocco Che lui Non gli fa toccare palla Quindi ragazzi Non dico proprio Perché lui È veramente Zero Nell'ultimo periodo Una condizione fisica Innecorosa e imbarazzante Questo ragazzi Di domenica Cosa ne pensate E i vostri voti Al prossimo video